Passiamo all'oggetto numero 2 PNRR, effettiva azione della regione Umbria ed attività svolte dalla cabina di regia politica e dalla task force tecnica, intendimenti della giunta regionale. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, grazie per questa opportunità di continuare il discorso sul tema che ha in qualche maniera introdotto la collega Puletti e che ci vede, mi vede, sicuramente in un'ottica di forte collaborazione e di stimolazione come è giusto che una forza di opposizione faccia. Tornerò magari forse nel tempo della replica sui argomenti che lei ha sottolineato, Presidente, e che mi fa piacere verificare, quindi constatare. La domanda che io le voglio porre è, come avrà visto dal documento che ha sicuramente esaminato, l'azione svolta appunto dalla cabina di regia, perché questa cabina di regia, proprio per le cose che lei ci ha appena illustrato, sia di quanto è stato fatto, sia di quanto potrà essere fatto da qui in avanti, rappresenta quello strumento, condizio sine qua non, riusciremo a capitalizzare al massimo da questo straordinario, diciamo così, momento che stiamo vedendo della ripresa e della resilienza, che speriamo ci renda una regione resiliente, capace di intervenire in maniera massiccia e forte su quelle che tutti definiamo carenze storiche di questa regione. Carenze che, per quello che mi riguarda, non sono legate a fatti e a momenti come qualcuno può far credere, ma anche e soprattutto a struttura e conformazione della nostra regione. Quindi nel documento illustrativo del PNRR della regione Umbria si legge che gestire questa mole di finanziamento vuol dire di dotarsi di una capacità programmatica e amministrativa e di dover dar luogo ad una tempestiva azione di semplificazione delle norme e delle procedure, realizzando una nuova stagione di cooperazione tra le amministrazioni e il territorio e tra soggetti pubblici e privati, un percorso preparatorio che l'Umbria ha già avviato. Ecco, forse non ne ho contezza io e una delle domande che le pongo è se ci sono stati atti amministrativi volti a, diciamo così, semplificare le norme e le procedure, perché queste rappresentano logicamente un grande ostacolo, volte anche a sollecitare quella cooperazione tra soggetti pubblici e privati che venivano ricordati nella premessa che le ho letto. Le risorse del Recovery Fund vedono una forte concentrazione sulla transizione green, sull'esperienza digitale e sul fatto che siano partibili entro il 2026. L'Umbria è una regione che ha una grande difficoltà, lo abbiamo sempre riconosciuto con una serie storica che negli ultimi anni, lei ce lo ricorda spesso in quest'Aula, ha visto perdere 13,3 punti di PIL, tantissimo. Una recente presentazione fatta da AURL sulla relazione economica e sociale evidenzia un insolito aspetto per la nostra regione che riguarda le divisioni volontarie dal lavoro, un fenomeno in forte crescita con un particolare riferimento ai rapporti a tempo indeterminato, e questo è ancora pro grave, che presenta in Umbria uno dei trend in aumento, a un ritmo doppio di quello a livello nazionale. Quindi la sfida principale è quella di andare oltre una mera uscita dall'emergenza, l'abbiamo detto tante volte, non è soltanto l'emergenza sanitaria che ci preoccupa, anche se è stato il primo grande tema su cui ci siamo tutti concentrati, ma dovremmo concentrarci sulla possibilità di riportare e portare l'economia regionale oltre quelle condizioni di, lo dico io, debolezza produttiva che negli anni hanno caratterizzato questa regione. Le previsioni presentate nella relazione per il 2022 vedono gli Umbria, quindi i nostri cittadini, agli ultimi posti come incremento del PIL e quindi questo sembra confermare i timori che portano ad una stagnazione. Sarebbe possibile sostenere la ripresa economica e la crescita del PIL regionale se supportato quindi da azioni importanti, a partire dal PNRR ma anche con la programmazione 21-27 di cui ancora non abbiamo parlato adeguatamente. Recovery Plan che ha visto la Lega in un primo momento orientarsi verso un'astenzione per poi ravvedersi e quindi rompere quell'asse sovranista con Giorgia Meloni votando a favore di quell'adozione di questo piano al Parlamento europeo. La sua giunta aveva proposto, presentando tutti i progetti, mi permetto di dire, lei me lo rimprovera, ma sono tutti i progetti che ha denunciato anche la collega Fuletti, che lei ha trovato già con piani esecutivi, quindi rappresentano una capacità di aver almeno programmato quello che per l'Umbria poteva essere interessante, tanto che questi progetti sono stati in qualche maniera estrapolati anche dal piano nazionale, sono stati presi dal piano nazionale e portati in quella dinamica di interesse nazionale per cui sono stati subito finanziati. Ad oggi non abbiamo visto progetti e atti che la sua giunta ha proposto e ce ne ha parlato di alcuni che nel corso dei prossimi anni sicuramente vedranno la luce. Quindi il fatto che quell'ipotesi di un PNRR regionale era dubbia nel primo documento che la collega Fuletti aveva presentato e che poi parlava ancora di un PNRR regionale, noi lo abbiamo contestato anche nella discussione del destro e in quel documento dove in maniera poco organica da una parte si parlava di PNRR regionale come se ancora esistesse una possibilità in autonomia di gestire questi fondi. Quello che vogliamo chiedere è che se questa collaborazione, se questa cabina di regia sta lavorando e in qualche maniera sta portando al sistema una forma di concertazione che serve a realizzare anche i progetti di cui lei ci ha parlato. Abbiamo sentito parlare di un accordo di programma con l'Anci, sembra che ad oggi l'ufficio di presidenza ancora questo accordo non l'abbia visto, le chiediamo magari di sollecitare, di verificare, magari è successo nelle ultime ore perché dovrebbe essere stato firmato a gennaio se non sbaglio. Ecco, se questo accordo e questa capacità di creare questa rete di collaborazione può essere la più efficace possibile per dare la possibilità soprattutto ai piccoli comuni di entrare in questa programmazione e di entrare nella possibilità di intercettare risorse che mai e neanche nel futuro avremo a disposizione. Questo per consolidare la nostra economia e per fare in modo che appunto l'Umbria possa veramente ripartire adeguatamente in un contesto nel quale abbiamo detto tante volte ci sono sì tante risorse ma saranno risorse che in parte dovranno essere restituite. Grazie. Grazie consigliere Forzi. Presidente F6, prego. Gentile consigliere Forzi, sa che ho una certa anche simpatia nei nostri approcci e dove sono sempre aperta e disponibile anche a parlare, come è capitato, di questioni anche con interlocuzioni più riservate di questa aula consigliare. E io non è che lei continua a ripetere alcune cose e dice che io continuo a ripeterne altre come quella dei progetti che avevate preparato, però io non vorrei, perché non è nel mio stile entrare in polemica, però se continuiamo a ribadire certi concetti che ormai sono stati reiteratamente sottoposti, io devo per forza rispondere, perché è una risposta che è inevitabile, è irreipsa. Lei ha parlato, ribadendo la debolezza della nostra regione, il calo del PIL certificato dal Sole 24 Ore, non certo da me, che è l'ultima regione italiana al 2019, però dice anche, ho sentito dire stamattina nella sua interlocuzione, che questa è dovuta, la causa è dovuta alla struttura e alla conformazione della nostra regione. Ho capito bene? Penso di sì. È un passaggio che stavo fatto e io ne prendo atto, ma vede così i rapporti, noi non potremo cambiare la struttura e la conformazione della nostra regione. Noi, avuto riguardo alla struttura e alla conformazione della nostra regione, ci stiamo attivando, per esempio, per renderla accessibile, per toglierla da un isolamento drammaticamente colpevole. Perché se avevate fatto i progetti, mi riferisco specialmente a tutto quello che riguarda la mobilità, e l'avete tenuto in un cassetto perché non siete stati capaci di farvene finanziare uno, il problema dell'Umbria e il problema economico dell'Umbria è strettamente connesso anche a questo. Quindi, abbia pazienza, ma questo credo che sia una puntualizzazione doverosa. Quindi è un poco rammarico che sento ripetere le stesse cose. Noi abbiamo fatto un'azione molto forte per arrivare a questi già primi risultati e, come ho spiegato prima, per cui non vi riporto a tutto quello che ho detto prima perché sarà stato attento, avrà compreso perfettamente, conto di riportarne degli altri. Da subito ci siamo mossi, ancora prima della pandemia e questo l'ho ripetito e lo voglio tornare a ripetere. Bene, ci sono anche altre considerazioni che sono state fatte in questa interrogazione. Il PNRR è sicuramente un'immensa possibilità di rilancio per il nostro Paese tutto. Un cambio di passo nella politica economica europea che alcuni partiti hanno richiesto per anni, che ci rende tutti europeisti perché ritrova lo spirito dei padri fondatori in questo momento. Non prima, ma anche un immenso debito, e ne siamo assolutamente consapevoli, che ricadrà su di noi e sui nostri giovani, che sono già così sofferenti, anche in Umbria, per quanto non si è potuto progettare e realizzare per loro. Ecco, quindi con questo spirito noi dobbiamo vivere il PNRR. Ci vuole uno sforzo unitario, al di là dei colori politici, per realizzare qualcosa di valido ed efficace per la nostra comunità. E questo è lo spirito con cui io l'ho affrontato tutta la mia giunta. Davvero non riesco a capire come non ci si riesca a stringere e ad unirci intorno a dei risultati che al momento sono oggettivamente buoni per la nostra regione su questo tema, che vanno a vantaggio di tutti. E certamente non è mio o della giunta, ma sono richiesti e vanno a vantaggio dell'Umbria. Questo è il tema, e che io sul quale inviterei tutti veramente a dare una mano e a esserne consapevoli, perché poi tante cose passano in questo Consiglio, passano sicuramente, sono sostenute la maggioranza, con cui le abbiamo condivise e stiamo condividendo questo percorso. Però in ballo c'è il presente e il futuro della nostra regione, drammaticamente compromesso, purtroppo, perché i dati sono chiari, ma nello stesso tempo impietosi. Ora richiamo integralmente la risposta che ho dato, credo che non sia utile, credo che sia una perdita di tempo, ripercorrere quello che ho detto. Però voglio precisare, con l'Alci è già stata sottoscritta una convenzione. Io non so se l'ufficio di Presidenza, lo sa o lo sa, ma è stata sottoscritta, ma tanti comuni la conoscono, quindi non so se è sfuggita qualcuno dell'ufficio di Presidenza. Può essere. La cabina di regia regionale è la giunta regionale, democraticamente scelta dagli Umbri e sostenuta dal Consiglio regionale. L'Umbria è stata una regione in difficoltà, ma lo è stata dal 2000 al 2019. Ripatisco i dati del Sole 24 ore, così non ce li dimentichiamo e da lì ripartiamo per ricostruire l'Umbria. E non ci dobbiamo nemmeno scordare, è quello che è avvenuto nel 2020 in piena pandemia e 2021. L'Umbria ha retto molto meglio anche della media nazionale all'impatto della pandemia del 2020, sta crescendo nel 2021. La mia, la nostra preoccupazione è quella di rendere questa crescita strutturale. Lo possiamo fare attraverso sicuramente il PNRR, ma lo abbiamo fatto attraverso l'utilizzazione di quei fondi europei della passata programmazione. Purtroppo non ho spesi o spesi male, perché l'impatto sull'economia non c'è stato. E questo percorso lo condividiamo con tutti gli stakeholder, lo condividiamo con gli imprenditori di questa regione, con Confindustria, piuttosto che con la CNA, che anche da poco è uscita. Quindi questa condivisione di percorso e divisione c'è, c'è tutta. I partiti della nostra maggioranza sono stati sempre convintamente al fianco. di questo percorso e continuano ad esserlo, perché siamo tutti convinti che in questo momento ci vuole grande senso di responsabilità che dobbiamo ai cittadini umbri, perché non possiamo disperdere le opportunità che ci possono essere date. I famosi 45 progetti utili del primo e del PNRR erano utili per intercettare finanziamenti per lo sviluppo del nostro territorio, accelerando la nostra ripresa economica e il superamento di carenze storiche dell'Umbria. A questa missione sta assolvendo egregiamente, come già con questo primo finanziamento parziale di 1,57 miliardi non solo intercettati, ma pronti a coprire tutto questo. E a questa cifra vanno aggiunti gli interventi che si faranno per bando e per spiazzamento, perché questa è una parte rilevante della politica nazionale sul PNRR. Il PNRR regionale, quello originariamente presentato, cosa che gli aggiustamenti sono in itineri e sono ancora in corso, perché anche i bandi che stanno uscendo escono adesso e su questi ci dobbiamo confrontare. Non ha mai inseguito i riparti, perché sapevamo benissimo che non c'erano riparti. Abbiamo fatto una valutazione dell'ammontare delle risorse in rapporto a quello che è l'Umbria e al PIL dell'Umbria rispetto al PIL nazionale. Questi sono i ragionamenti, quindi creare interpretazioni che non trovano fondamento in nulla né di quel PNRR presentato né nell'attuale stato di avanzamento e di prosecuzione dei progetti. Questa è la verità che bisogna dire. E come sa bene, l'Umbria vale l'1% del PIL italiano, quindi seguendo il ragionamento che faceva prima, anche sulle quote di riparto, essere arrivati già a 1,57 miliardi senza bandi e spiazzamenti è un risultato rilevante, che comunque non ci vede fermi perché abbiamo ottenuto questo. Siamo contenti di averlo ottenuto, è rilevantissimo per l'Umbria. Basta andare a vedere che cosa finanzia. Non ci fermeremo qui e quindi su questo tranquillizzo tutti, l'ho detto già, i progetti che sono itineri e quelli che andremo a realizzare attraverso i bandi che verranno emanati. Io credo di essere stata esaustiva su tutto. Sulla Tax Force regionale ho risposto già nella interrogazione della consigliera Puletti. Sta lavorando, così come ha lavorato per portare avanti i progetti che ci siamo, che sono stati già finanziati, e continua a farlo. Lo fa nei vari settori, utilizzando anche risorse che vengono dalle nostre società partecipate, che per la prima volta nella storia di questa regione sono state risistemate, sono percepite come utili alla comunità tutta regionale e stanno facendo un grande lavoro di supporto, di accompagnamento al PNRR che stiamo realizzando. Tutto è migliorabile, sicuramente sì, ma come tutte le cose che si stanno concretizzando in itinere, perché lo vedete benissimo, una volta esce un bando dal Ministero dello Sviluppo Economico, un'altra volta esce un altro bando relativo ad un altro settore delle varie emissioni del PNRR e noi siamo pronti a rispondere. Stiamo facendo con l'agricoltura piuttosto che con l'ambiente, piuttosto che con l'infrastruttura, sviluppo economico e quant'altro. Ecco, ragioniamo tutti con un'ottica che ci deve vedere tutti uniti, perché in questo momento, veramente, alla nostra regione serve di fare squadra e di ottenere risultati, che è l'unica occasione che possiamo avere, perché altrimenti il baratro, quello che era evidente nel 2019, non riusciremo a colmarlo. Grazie. Grazie Presidente. Consigliere Forzi, no, gliela raccomando semplicemente perché anche prima ho fatto sforare di molto anche lei nell'illustrazione dell'interrogazione. La Presidente ha avuto sei minuti nella prima interrogazione e sei minuti passa nella seconda, ma il tema merita veramente un'ampia discussione e io sono contenta delle risposte che ho ricevuto, però due cose le voglio puntualizzare, proprio per la cortesia, per la stima e per il modo in cui spesso noi colloquiamo. Nel mio atto, l'atto che io ho presentato sul tema, non c'è un riferimento ai progetti che invece la consigliera Puletti, che adesso non è in aula, ha elencato e siccome voi avete parlato di quei progetti, come i progetti finanziati dalle risorse che finora sono atterrate in Umbria, grazie alla vostra interlocuzione con i ministeri, rispetto a voi fare questo lavoro, dopodiché una collaborazione non è stata mai, diciamo così, negata, ma anzi siamo tutti dalla stessa parte. Quindi nella mia interrogazione, lei non legge cittadella giudiziaria di Verugia, il rifacimento della FCU Sansepolcro Terni, il completamento della Donari, il della Quadrilatero, il raddoppio della Orte Falconara, lo legge nel documento presentato dalla collega Puletti, che riconosce quindi, cosa che non ho fatto io, che vi siete trovati nei cassetti progetti cantierabili che erano probabilmente in una fase molto avanzata, vado oltre, ci sono progetti, e leggo le parole del dirigente Stefano Nodessi, che parlando del miliardo, dei 152 milioni per auri, dice testualmente, pur avendo un piano di rifiuti in esaurimento e uno nuovo che è una bozza, si fregia di un'organicità di progetti che poche regioni possono al nostro vantare in questo momento. Il che significa che anche i progetti fatti in quei contesti erano progetti utili per… Poi vado sul tema che lei giustamente rimprovera, ma qui io mi permetto di ricordarle che se quelle opere non sono state finanziate è perché noi vivevamo un'altra area politica, c'era un quadro normativo nazionale con monti, vincoli di bilancio, l'Europa aveva altre regole che oggi non esistono. Certo che siamo d'accordo che questa è un'occasione straordinaria e quando io dico che il PIL è un PIL, lei dovrà riconoscere la mia onestà intellettuale, nei miei documenti non legge l'assenza di valori che mettono in evidenza le criticità dell'India, ma ripendi quel fatto che su quelle criticità i progetti per uscire dall'isolamento colposo erano legati alla disponibilità di soldi, non c'erano, non c'erano. Ha fatto riferimento ai fondi europei non spesi nella passata legislatura, allora o spesi male e su questo lei al suo giudizio lo tengo come erro rispetto, ma dimentica che quei fondi dopo due mesi il vostro ingresso hanno avuto uno svincolo totale dalla destinazione d'uso e soprattutto non hanno più avuto la necessità di essere cofinanziati da un bilancio regionale che è quello della regione Umbria, non è quello della regione Lombardia. Quindi vi avrebbe potuto permettere di fare due mila cose che a nostro avviso non sono state fatte, non ci ha portato lei tutto il ragionamento, non l'avrei mai affrontato in questo contesto e che ci siamo permessi di criticare nel nostro ruolo. Dopodiché sulla gestione della sanità oggi lei dice che abbiamo retto meglio di altri, contentissimi di essere stati zona bianca, le criticità le abbiamo più volte sollevate, ma qualche giorno fa l'assessore Coletto scriveva sul giornale, penso che erano parole sue, di un debito consistente che dovrà essere speriamo coperto dalle risorse nazionali. Quindi la mia interrogazione era volta a sollecitare il buon funzionamento di questa task force, volta semplicemente a capitalizzare tutto quello che può essere possibile in questa occasione, d'oro e irripetibile. Tutto il resto viene dalla discussione che è stata fatta con la collega Puletti che ha fatto un'interrogazione mettendo in evidenza alcuni progetti, non mi sono potuta esimere dal commentare che questi progetti non prevedono un atto amministrativo di questa giunta e la domanda che mi pongo, siete stati nella gestione di un'emergenza? Come avreste fatto senza questa disponibilità di progetti? A questo punto la mia sollecitazione nasce, la mia curiosità nasce da quello che ho ascoltato prima, ma la mia raccomandazione per quanto concerne l'interrogazione e l'atto che ho voluto presentare, quindi spero che lei ne abbia conto l'auspicio, la volontà, non avendo avuto nozione di semplificazioni, burocratizzazione per quello che consente a voi e all'aggiunta regionale, mi chiedo e vi chiedo, facciamo in modo che veramente questo tempo che rimane a disposizione di questo nostro consiglio, di questa amministrazione possa essere capitalizzato al massimo per il bene dell'Umbria. Progetto numero 7, interroga il consigliere Bettarelli, risponde l'assessore Morroni. Prego consigliere Bettarelli. Sì, grazie. L'interrogazione è piuttosto semplice e quindi la farò abbastanza breve, anche perché più che la domanda mi interessa la risposta, quindi utilizzerò i minuti a disposizione che sono concessi, a differenza di tanti altri che invece ne usano sempre molti di più. Comunque, l'interrogazione è relativa agli intendimenti circa la volontà di revisione della legge regionale numero 12 del 2015 e in particolare il testo unico in materia di agricoltura. Questa interrogazione fa riferimento in modo particolare ad una serie di articoli, di incontri avvenuti in modo particolare con l'associazione Tartufai, ma vuole fare un po' il punto rispetto ad una legge sosta articolata e anche complicata, perché deve contemperare le giuste esigenze di chi fa libera cerca con le giustissime esigenze di chi fa impresa e che quindi genera reddito in termini di imprenditoria. Quindi è ovviamente una normativa che, gioco forza, è complicata e che deve tenere insieme diversi interessi. Questa interrogazione è stata depositata il 25 gennaio e come prima considerazione mi ha fatto molto piacere che a seguito del deposito, quindi semplicemente il deposito di questa interrogazione si sia mosso tutta una serie di soggetti politici, ma a tutti i livelli colleghi consiglieri, l'assessore, l'Afor, commissioni, ci sono state qui tutta una serie di attenzioni rispetto ad un argomento che da quello che mi risultava era un po' sospeso a partire dal 21 luglio 2021 quando ci eravamo visti in commissioni. Ho letto che due colleghi fanno un comunicato stampo in cui ci dicono tartufaie controllate, libera cerca, proposta di legge lega, quindi colleghi Puletti e Mancini, cooperare per valorizzare il prodotto di eccellenza, si parla di un regolamento, di una legge che io onestamente a questa mattina non ho trovato ancora gli atti, ma sicuramente arriverà, ma al di là di quello che hanno fatto gli altri mi fa piacere che si sia mosso, che ci sono stati incontri, magari poi nel dettaglio l'assessore li saprà ovviamente meglio di me e ci darà conto, si sia mosso qualcosa per far sì che questa normativa, tenendo insieme le esigenze di tutti, possa essere rivista, aggiornata, sentendo tutti i soggetti e tutte le parti in casa. Quindi in buona sostanza sono a chiedere qual è lo stato di avanzamento rispetto ad un eventuale, così come comunicata, annunciata più volte, revisione della legge 12 e se per eventualmente modificare questa legge si intende aspettare quello che è il disegno di legge parlamentare, il disegno di legge 810 che è in discussione ormai da anni alla Camera e quindi quali sono i tempi di eventuale modifica se dobbiamo aspettare la conclusione di quell'iter legislativo a livello nazionale o diversamente se c'è la volontà e la voglia di mettere mano, sempre rispettando le esigenze di tutti, alla legge regionale. Presidente, consigliere Betterelli, posso confermare che i lavori finalizzati all'aggiornamento della legge regionale, la numero 12 del 2015, per quanto attiene le norme in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi, sono stati avviati con un primo incontro avvenuto in data 8 settembre 2021 con le associazioni dei tartufai. In tale primo incontro le stesse associazioni hanno illustrato un'articolata proposta di aggiornamento e perfezionamento della legge regionale 12 del 2015, sottolineando come uno degli aspetti prioritari riguardi le modalità di riconoscimento, rinnovo e controllo delle tartufaie controllate, ovvero della superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa allo stato naturale di tartufi, la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene, ed all'interno delle quali, una volta riconosciute con le procedure previste dalla legge, hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti i conduttori delle stesse tartufaie controllate. Analogamente in data 13 settembre 2021 si è svolto un primo incontro anche con i rappresentanti dei tartuficultori, titolari di tartufaie controllate e coltivate, i quali a loro volta hanno rappresentato le problematiche di maggiore rilevanza, tra cui anche in questo caso uno degli aspetti prioritari riguarda proprio le modalità di riconoscimento e il rinnovo delle tartufaie controllate. La volontà di compiere un forte salto di qualità nell'azione della Regione, in questo fondamentale settore per l'Umbria, è ben evidente a tutti. Il progetto di filiera che ho voluto promuovere sta riscontrando un interesse da parte delle aziende agricole e degli operatori del settore, ben oltre quanto ottimisticamente ci si potesse attendere. Questo forte slancio è finalizzato da un lato a non rimanere indietro rispetto ai consistenti aumenti delle superfici delle tartufaie coltivate in corso in Francia e in Spagna e dall'altro a consolidare la filiera del tartufo nel suo complesso promuovendo un diverso e più forte legame tra i diversi anelli della stessa filiera, contribuendo in tal modo da riportare in primo piano il ruolo che l'Umbria può e deve rivestire in questo settore, così strategico non solo in chiave produttiva, ma anche per il valore aggiunto che può conferire all'immagine della Regione come volano di sviluppo anche per il settore turistico. Ma accanto all'impulso che l'allargamento delle tartufaie coltivate può dare al ruolo dell'Umbria in questo settore, ho ritenuto necessario promuovere, attraverso i lavori per il perfezionamento della legge regionale, un salto di qualità anche relativamente alla tutela e miglioramento della produzione spontanea di tartufi, produzione alla quale è intimamente legata all'attività della ricerca e raccolta, il cui elevato valore storico e culturale ha portato a dicembre dello scorso anno al riconoscimento della cerca e cavatura del tartufo in Italia, conoscenze e pratiche tradizionali, nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. I lavori di perfezionamento della legge regionale avviati a settembre del 2021 sono quindi proseguiti con ulteriori incontri di approfondimento, avvenuti in data 23 novembre del 21 e 15 febbraio di quest'anno. E si ritiene che sia possibile, entro breve, arrivare ad una sintesi in grado di perfezionare il delicato equilibrio tra ricerca libera, cerchi e aspettative dei titolari dei terreni, equilibrio che come noto sta alla base della tutela e miglioramento della produzione spontanea del tartufo. In merito alla proposta di legge nazionale in materia di tartufi e tartuficoltura, si evidenzia che un testo di modifica della legge 752 dell'85 è all'attenzione delle commissioni parlamentari a partire dalla quattordicesima legislatura ed in particolare dall'11 giugno del 2002. Le proposte di modifiche sono state poi reiterate anche in tutte le successive legislature fino all'attuale diciottesima. In data 8 gennaio 2020 è stato adottato dalla nonna commissione permanente del Senato un testo base del relatore che riunisce tre diverse proposte di modifica presentate nel corso dell'anno 2019. In data 31 gennaio 2020 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti che sono risultati pari al numero 118. Da tale data il testo base è stato posto all'ordine del giorno della nonna commissione permanente del Senato in otto diverse sedute, di cui l'ultima datata 18 gennaio di quest'anno. Senza che sia ancora stato avviato l'esame degli emendamenti, alcuni peraltro riformulati nel corso del 2020. Pertanto sarà di certo mia cura monitorare attentamente i lavori parlamentari, specialmente se dovesse esserci un'accelerazione dell'ITAR, ma posso già assicurare che molti dei perfezionamenti che stiamo analizzando non subiranno ripercussioni dall'eventuale approvazione della nuova legge nazionale. Peraltro su alcune questioni specificamente attinenti le tartufaie controllate, molti degli emendamenti presentati e il testo base in discussione al Senato propongono radicali modifiche dell'impostazione contenuta dello stesso testo base ed è conseguentemente non ancora pienamente chiaro quale potrà essere se ci sarà il risultato finale. Grazie Vicepresidente. Prego la replica al Vicepresidente Vettarelli. Una replica molto veloce rispetto all'aggiornamento per dire che sono soddisfatto di quello che si sta facendo. Mi auguro che quindi rispetto alle questioni che sono state sollevate sulla revisione, non entro nel merito di filiere e quant'altro perché poi si aprirebbe un altro filone che in questa sede rispetto a questa interrogazione meriterebbe molto più spazio anche rispetto ai destinatari, ma non è questa la sede, non è questa l'interrogazione. Dicevo rispetto alla volontà e al percorso che si è sviluppato soprattutto in queste ultime settimane sono soddisfatto di quello che si sta facendo e mi auguro che pur consapevole delle difficoltà, come ho già detto in premessa ed è del tutto evidente, di trovare risposte per esigenze molto diversificate. Mi auguro però che rispetto alle istanze che stanno arrivando ci sia appunto la volontà di metterci mano, come ci è stato detto, tutto sommato, quindi rispettare questo impegno in tempi e modi certi. Grazie a tutti.